Oggi gli utenti trascorrono sempre più tempo connessi, usando smartphone, PC, smartwatch, chatbot, assistenti vocali. Il mercato è diventato omnicanale. L'omnicanalità è l'occasione per un dialogo diretto e di valore con gli utenti. Tante aziende hanno colto questa opportunità, iniziando a integrare sempre nuovi touchpoint. Questo processo di integrazione ha creato complessità crescenti. Ogni nuovo canale implica nuove connessioni ai sistemi aziendali. La moltitudine di collegamenti ha portato a Time to market rallentato, difficoltà di comunicazione tra i sistemi, duplicazione del codice, aumento dei costi, potenziali rischi per la sicurezza. Per risolvere le difficoltà oggi c'è una nuova soluzione. Mia Platform, uno strato tecnologico leggero che si pone tra i sistemi aziendali e i punti di contatto per trasformare l'azienda in una piattaforma digitale. Con la flessibilità dei microservizi e la potenza delle API, diventa semplice integrare ogni touchpoint, accelerando il time to market. Mia Platform è anche persone. Il PO, un team di esperti e l'Academy, affiancano le aziende nel realizzare il loro potenziale digitale. Con Mia Platform, ogni azienda accelera il time to market, realizza un portale unico per le API e la documentazione, abilita il riutilizzo di servizi e componenti, migliora la sicurezza dei sistemi, riduce tempi e costi, ottiene l'agilità di una startup con la scalabilità di un enterprise. Grazie alla capacità di governare tutti i flussi dati, Mia Platform è lo strumento perfetto per alimentare analytics e data platform e trasformare le aziende in vere data-driven company. Non solo, grazie alla facilità di esposizione dei dati in sicurezza, diventa facile integrare i touchpoint di terze parti, dando vita a una vera strategia di data monetization. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori,